La conferenza stampa di oggi per la quale ringrazio il Presidente della Camera per aver messo a disposizione questa sala è una conferenza stampa che come Italia Viva abbiamo convocato per fare il punto sulla situazione politica del Paese e per annunciare le dimissioni di Teresa Bellanova, di Elena Bonetti e di Ivan Scalfarotto come da lettera che abbiamo inviato al Presidente del Consiglio